Chart è una web agency, un'agenzia multimediale nata nel 2005 a Treviso, nella campagna trevigiana. Oggi abbiamo parlato del digital e il retail. È molto importante per quelli che sono i piccoli negozi B2B, i retailer, cercare di attrarre traffico nei punti vendita. Come si può attrarre traffico nei punti vendita con l'utilizzo di internet e dei social? Possono essere chiaramente fatte diversi tipi di attività. È possibile andare chiaramente a interagire con il proprio pubblico e in questo caso chiaramente prima a costruirsi il pubblico, costruirsi l'audience per andare poi a interagirci facendo delle attività tipo potrebbero essere degli eventi in store che possono essere quindi lanciati e organizzati attraverso i social per poi andare quindi a portare persone nel punto vendita. Possono essere utilizzate delle piattaforme tecnologiche già esistenti come Foursquare o Facebook per andare a creare delle promozioni, dei deal che intercettano le persone che camminano nella strada, facendo presente quindi alla persona che nelle vicinanze è presente una possibile promozione in un certo negozio, fare in modo quindi di farglielo presente attraverso il telefonino e di portarlo nello store. Un altro punto importante è massimizzare quello che è l'utilizzo, lo spending del cliente all'interno dello store e quindi sia invogliarlo ad entrare sia a prendere più materiale, più cose, più prodotti. Una gestione della tessera loyalty classica potrebbe essere trasporta nel mondo digitale, come? Andando a tracciare nello specifico tutti quelli che sono gli acquisti del singolo cliente, quindi andando a capire che il cliente Mauro ha comprato un mese fa una giacca e un pantalone di colore blu e il commesso quando la persona torna in negozio sa lo storico, sa il gusto del cliente e quindi potrà chiaramente andare a proporgli del materiale, dei prodotti che sono per lui più rilevanti e quindi fare anche un overselling, una vendita in più rispetto a quella che è stata fatta prima. Un'idea importante, un'idea interessante potrebbe essere anche quella di andare ad avere all'interno del negozio di strumenti che invoglino le persone a entrare nel punto vendita. Facciamo un esempio stupido, potrebbe esserci un device, un cubo all'interno del negozio dove l'utente entrando è come se giocasse un po' a un piccolo gioco, una piccola lotteria, schiacciando un piccolo bottone la possibilità di andare a ricevere una piccola promozione. Se la promozione è per lui interessante potrebbe condividendola sui vari social network e quindi rendendola visibile a tutta una serie di suoi amici andando a acquistare il capo con una percentuale di sconto particolare. E questa potrebbe essere una piccola idea da portare avanti.